Una manovra da 898 milioni di euro, fondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente, ma anche cultura, turismo e assetto del territorio. Con il voto favorevole della maggioranza, il Consiglio Metropolitano di Napoli ha adottato nel corso della seduta tenuta nell'Aula di Santa Maria Lanova il bilancio di previsione 2023 corredato dei suoi allegati, tra cui i piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il programma triennale delle opere pubbliche, il programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2023-2024 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025. Il documento di pianificazione per l'esercizio finanziario 2023 prevede stanziamenti per 248 milioni e mezzo di euro per le scuole. Per i trasporti e per il diritto alla mobilità sono stati stanziati 258,2 milioni di euro e invece di 62,2 milioni la previsione per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente. 9 milioni e mezzo andranno alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 1,1 milioni per lo sviluppo del turismo, 3,5 milioni di euro per urbanistica e assetto del territorio, 15,3 milioni per misure di sostegno all'occupazione, 174 milioni per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali e 58,2 per servizi per conto terzi. Ascoltiamo Marco Antonio Del Prete, sindaco di Fratta Maggiore e consigliere delegato al bilancio Città Metropolitana di Napoli. Un documento importante che finalmente dà l'idea in Città Metropolitana di quello che abbiamo intenzione di fare. Sarà un bilancio ricco da tutti i punti di vista, dal punto di vista delle assunzioni, delle opere pubbliche. Il PNRR ci ha dato una grandissima mano, ma sono in corso anche tantissime opere messe in campo nell'anno precedente. Grande attenzione alla mobilità sostenibile, grande attenzione all'ambiente, grande attenzione insomma a tutte quelle linee guida che ci siamo dette all'inizio di questo mandato e che nel corso di questo primo, anzi secondo anno, diciamo così, perché il primo è stato un po' di conoscenza della macchina amministrativa, sta pienamente prendendo frutto.